oh che bello tornare a casa oddio oddio oh no 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 non ci credo sono diventato cieco non ci vedo non ci vedo no no aspetta non sono diventato cieco e la luce che non è accesa oh bene era la luce che non era accesa adesso mio carissimo manga dove ti avevo interrotto prima di uscire capitolo 18 anzi volume 3 capitolo 18 però 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 prima di leggere il manga devo ancora fare una cosa devo farmi venire un'idea per il video dei 10.000 iscritti di giulagatta 97 a parte il saluto sarebbe bello qualcosa di originale non so simpatico cosa di bizzarro possibilmente che non sia un cliché è difficile essere creativi qualche volta ah ma sta già registrando porca miseria ma perché non me ne sono vabbè ciancio ai ciancio ai indugi bello si vede che sono le 11 sono proprio addormentato lasciamo perdere giulia negoioni 10.000 complimenti per i 10.000 iscritti continua così facci sognare è un saluto da naruto è un saluto da naruto Grazie a tutti.